Ho pensato di superare le cose su tutte le cose Un pochino copiato, bro Dopo la caduta in bici di Svelo Mi spiace Questo è un del film Nick No, ma devo scriverti il mio nome Non so cosa scrivere Vai Vai Questa è il backstage Dei multiverso Mentre stanno registrando un pezzo nuovo Del loro video Noi siamo qua ad aspettarmi Stiamo aspettando che Questi bambini qua stanno scendendo le scale Bye Ci sei? Ho messo il dialogo pro No, no, dritto Iniziamo il video 1,25 1,25 Adesso poi ho dato 1,25 Tu 12,5 Tanto, tanto Non riesci neanche a finire il percorso Ma nel senso che Pesa tanto che è il fiato È il fiato Ho dato resistenza Dico Secondo me Che farò Dal minuto 1,20 Al minuto 1,30 Di margine Massimo Ma raga Secondo me manco la finisce La fil percorso Dai dai Facciamolo Partecipante numero 2 In arrivo Round 2 Io sono stanco morto Però il braccio c'è Ok Cimento Dove stai? Ah ok Vuoi star qua? Hai detto Promozione Serie B Ci devo stare Ho appena finito di registrare il video con il multiverse Ci vediamo in metro Sono un po' corto di moneta piccola Grazie mille E tutto per te Vince il mio giorno di orvi Oh la la Ishar Mocas steak Mocas steak no i'm just i'm just kidding ok thank you no problem i'll text you when i'm a stampa no i'll text you when i'm a stampa l'uscita della metro di duomo va bene ai tornelli della rossa va bene ok ok vai no 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 e qui è in costruzione l'apple store guardate un po faranno l'apple store di milano l'ho aspettato così tanto veramente it's gonna be so awesome fidatevi sarà bellissimo aspetta ora salgo qua su e vi faccio vedere un attimo questo sarà l'apple store what i aspetta e diego is so excited Sì! 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 Follow me! Emily Berondi! Sì! Link è qui! Sì! 126 iscritti diciamo che... 128! At Emily Berondi! Sì! 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 Do you know the outro? I know where an outro! So! Se vi è piaciuto questo video lasciate un mi piace, se non vi è piaciuto girate lo schermo e cliccate su questo bottone, lasciate un commento, iscrivetevi se non avete ancora fatto e alla prossima! Grazie! Non ci avete ripreso vero? No! Grazie! Ammazzo! Non ce la faccio più! Vedo doppio! Vedo un Nicholas Weller! Per cui bisogna iscriversi! Ragazzi ho guitto! Vado a fare... Vado a fare il pensionato! Alle canali! Ci vediamo! Addio! Noi! Noi! Noi!